Il mio imposto è offerto da Gendi Gioiellerie, il mio peggio riesi a dono di pomerato a Taviani, mi trovi intorno a percare il porto verde. Gendi Gioiellerie, la garanzia preziosa. 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 Oggi questa splendida giornata di sport la dedichiamo a chi non è più fisicamente con noi. Gioiellerie, la garanzia preziosa. 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 campionati serie C1, 32 campionati serie B, un costellato visto di A&P e 5 campionati serie A, orgogliosi della nostra storia, tiri del nostro applusso, orgogliosi di essere P petto nel gosso, numero uno, Pενkun, numero due, Damiano, numero quattro, Emanuele, numero 5 Marco, numero 6, numero 10, Marco Ferrati, numero 11, Lorenzo Fittite, numero 17, Antonio Fittite, numero 19, Marco Ferrati, numero 20, Senta, numero 23, Gomi, allenatore, signor Fittite, numero 20, Marco Ferrati, numero 20, Marco Ferrati, numero 24, Gomi, allenatore, signor Fittite, numero 20, Marco Ferrati, numero 20, Marco Ferrati, numero 21, Marco Ferrati, numero